Eccoci insieme, buona serata, ben ritornati in nostra compagnia cari telespettatori. Questa sera un tema un po' diverso sotto certi profili che però si collega un po' nel finone che noi cerchiamo di andare ad approfondire ogni martedì sera con i nostri ospiti in studio e con la vostra partecipazione. Parliamo di no profit, ovvero il terzo settore. Di che cosa si tratta? Ce lo spiegheranno bene i nostri interlocutori qui in studio, ma lo sapete tutti perché poi i Veneti peraltro sono estremamente generosi e disponibili e risulta che una percentuale molto alta, anche se a noi un po' in diminuzione, si dedica al volontariato. Il volontariato è indispensabile di supporto a tantissime attività, soprattutto quelle di servizio ai cittadini, cittadini che magari ne hanno anche più bisogno di altri. E nei momenti di crisi e difficoltà ne risente anche questo terzo settore, cioè a meno flussi di denaro che vengono dati dai cittadini, dai privati. E però è fondamentale perché senza l'aiuto e il volontario di molte persone che si predispongono in un certo versante, che poi fanno capo a delle organizzazioni molto articolate sul territorio, strutturate da molti anni e ben strutturate peraltro, non potrebbero funzionare tantissimi servizi. Pensiamo alla sanità, pensiamo al sociale, alle persone non autosufficienti, alle persone che hanno delle disabilità di vario genere, ai bambini e così via. Insomma il settore è amplissimo. Si parla a livello governativo, si è parlato, Renzi ha fatto chiare parole, relativamente a una riforma di questo terzo settore. Ma che cosa sta a significare? Dove si va a toccare? Quali ambiti? Alla luce dell'attenzione è balzato soprattutto quello del volontariato civile, del servizio civile volontario che è al posto della leva, che potrebbe essere esteso a tanti, tanti giovani. Ma questo è stato un po' gli onori delle crona che balzava un po' l'evidenza. In realtà bisogna entrare un po' meglio e capire come andrebbe riformulato, in che ambito, che tipo di vantaggi ne potrebbero derivare, finanziamenti o meno. Per parlare di questo vi presento subito i nostri ospiti in studio. Franco Piacentini, presidente dell'Auser Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Peraltro, coordinatori di un convegno che ci ha dato un po' lo spunto per fare l'approfondimento qui in trasmissione, mettere ordine nell'universo del no profit, supportati dalle analisi del sociologo Giovanni Moro e rivolti alle linee guida del governo per la riforma del terzo settore. Un convegno che ha avuto anche molto successo, che si è appena chiuso e che ci potrebbe essere un po' da presupposto per tanti discorsi. Adriano Bordignon, ben ritornato anche a lei, presidente del coordinamento dei CSV di Treviso, centro servizi dei volontariati di Treviso, così avrà anche l'occasione per spiegarsi bene i tanti centri del volontariato che ruolo hanno. Paolo Alfier, portavoce forum terzo settore Veneto, grazie anche a lei di essere qui con noi. Luciano Sguotti, vice segretario provinciale del PD, con un ruolo politico istituzionale, quindi importante anche la sua presenza, come quella di Palma Sergio, della funzione pubblica CGL Veneto. Grazie anche a lei di essere qui con noi. E partiamo subito con il nostro contributo di copertina per entrare nel merito della nostra discussione. Abbiamo articolato quello del governo per riformare la normativa sul terzo settore, ad anticipare le linee guida di tale provvedimento, ieri il quotidiano avvenire. Partiamo dal 5 per 1000, ovvero il finanziamento volontario e le imprese sociali. Tale contributo nelle intenzioni dell'esecutivo dovrebbe stabilizzarsi da 400 a 500 milioni di euro. A questo, come da tempo richiesto dagli stessi operatori, si aggiungerebbero criteri di accesso per privilegiare il vero terzo settore, favorendo dunque Olmus, fondazioni e associazioni meritevoli e scoraggiare truffe e manipolazioni e per introdurre obblighi più accurati di rendi, contazione e trasparenza. Altro mezzo miliardo di euro dovrebbe essere destinato alle start-up sociali, ovvero per finanziare le imprese sociali create da giovani. Sempre stando alle anticipazioni, un altro capitolo della riforma riguarda il servizio civile, un progetto da 600 milioni di euro che dovrebbe prevedere anche la compartecipazione del privato, delle fondazioni e delle organizzazioni caritatevoli. Quest'anno 15 mila le domande di ragazzi italiani accolte. L'obiettivo sarebbe di arrivare ad 80 mila giovani in servizio. Il progetto sarebbe di rendere universale lo stesso servizio civile come possibilità offerta a tutti. Per questo obiettivo si penserebbe ad una programmazione non più annuale ma triennale. A mutare sarebbe anche la natura dell'anno di servizio civile. Si punterebbe infatti ad aumentare le opportunità di formazione, orientamento e esperienze all'estero per rendere il servizio civile spendibile anche nel mercato del lavoro. Il provvedimento che dovrà passare al vaglio delle consultazioni dovrebbe poi assumere la forma di una legge delega. Positivi i primi commenti che arrivano dal mondo del no profit. Renzi ha mantenuto la parola, il 12 aprile ha detto il 12 maggio presento la riforma e lo fa. Seconda sottolineatura, cambia veramente logica nel senso che il terzo settore in questi ultimi 10 anni è sempre venuto dopo, dopo che i conti erano a posto, dopo che il debito era messo in regola e invece Renzi sottolinea e dice il terzo settore viene prima, è il primo settore e è quello su cui investire. Abbiamo oggi 14 leggi contraddittorie fra di loro, ci sono 4 leggi fiscali contraddittorie fra di loro e Renzi dice che bisogna fare una legge quadro, bisogna semplificare e arrivare a una normativa chiara. Questo secondo me sarà l'aspetto più difficile su cui mettere più testa. Allora, vorrei cominciare con lei, presidente dell'Auser. Una riforma auspicata da tempo comunque. Come la vedete voi? Dopo vorrei sentire anche gli altri cosa ne pensano per capire. Da tempo era auspicata un intervento più che una riforma perché lo pensavamo che si arrivasse in tempi brevi così a avviare un percorso di riforma che vuol dire poi la definizione di una legge quadro, quindi che questa legge quadro entra in quel percorso già conosciuto dalle grandi riforme. Era necessaria questa scelta, questa volontà insomma ecopolitica, perché come veniva evidenziato bene nel servizio, siamo di fronte a una babele. Il professor Giovanni Moro, che lei prima ricordava nel suo libro, nel suo libro che sostanzialmente dice contro il non profit, trattino favorevole del non profit, perché il titolo è una provocazione per fare proprio chiarezza in questo mondo, in questa babele, anche legislativa che sta creando e crea parecchi problemi, non soltanto al mondo del volontariato, ma anche alle imprese sociali, alle cooperative sociali, alle fondazioni, al mondo dell'associazionismo nel senso più ampio. Il governo ha fatto questa accelerazione. Noi l'abbiamo accolta favorevolmente, questa scelta di avviare questo tipo di riforma. abbiamo anche noi, come tante altre associazioni, ma in modo particolare il forum nazionale ha inviato anche un proprio contributo di approfondimento e di proposta alle linee guida. L'unica nostra propria città è questa, che il governo sta ascoltando le parti sociali, quindi il mondo del volontariato, il mondo delle imprese sociali, della cooperazione sociale. La nostra preoccupazione è quella che poi il tutto si fermi lì, cioè che ci sia l'ascolto. Noi invece chiediamo che vi sia veramente un tavolo di concertazione, perché sono temi molto delicati, sono temi che devono essere affrontati, soprattutto con i protagonisti. Il protagonisti, per quanto ci riguarda, almeno come Hauser, è il contenitore del forum nazionale, cioè a noi non ci interessa presentare la bandierina dell'Hauser, a noi interessa che sia il forum che si esprime e che si esprimerà, se il governo ovviamente avrà questa disponibilità ad ascoltarci. Però la riforma è necessaria perché serve appunto per fare ordine, per dare certezza e soprattutto per dare quella visibilità di un pezzo di welfare che proprio in questo periodo di crisi è fondamentale. Non a caso è l'unica realtà che cresce dal punto di vista occupazionale, penso alle cooperative sociali, alle imprese sociali, è l'unica realtà che sta aiutando concretamente chi ne ha bisogno, penso al mondo del volontariato, con tutti gli interventi che quotidianamente i vari volontari si adoperano appunto per tentare almeno di alleviare alcune sofferenze, perché sono veramente sofferenze quando parliamo di disoccupazione, quando parliamo di endica, quando parliamo di disabilità, interviene il volontariato in quel percorso di sussidiarietà che molto spesso si sostituisce anche a qualche pezzo di attività che dovrebbe invece essere garantita dall'ente locale. Però l'ente locale ha l'attenuante del patto di stabilità, delle scarse risorse, dei tagli e trasferimenti e quindi chiama in causa, come si dice il volontariato, che si presta ovviamente con grande generosità ad affrontare appunto queste peculiarità dei cittadini che sono più bisognosi. Lei avrà anche il ruolo di rappresentare gli enti locali, questo ha avuto anche un ruolo in questo senso, quindi si prende anche questa responsabilità. Chi è da lei, Presidente, perché tra l'altro c'è nato il ruolo delle cooperative e io immagino già le osservazioni che si stanno facendo alcuni telespettatori che più volte si sono anche potigati di scriverci, perché non sempre sono ben viste, perché tante persone si vedono trascinate da una struttura di un certo tipo, una cooperativa, però sottopagate, con condizioni di difficoltà. Penso per esempio alle strutture soprattutto per le persone in difficoltà, hanno disabilità, hanno autosufficienza, eccetera. Quindi non sempre sono dei percorsi virtuosi. Aumentano sì però a discapito delle persone che vi lavorano. Sì, è indubbio che il terzo settore è un settore molto vasto e molto variegato in cui trovano vita dei percorsi virtuosi e dei percorsi invece non affatto positivi. Io penso che questo passo lanciato dal governo di Renzi sia un passo importante che è venuto anche da una risposta ben precisa a un invito fatto al mondo del volontariato. Quindi parte da un'istanza che è stata fatta? Sì, indubbiamente era nelle corde. È anche importante dire che nell'attuale Parlamento ci sono molte persone che provengono dal volontariato e dal terzo settore e quindi il loro civismo... Vi sentite ben rappresentati? In parte sì, insomma. In parte siamo ben rappresentati. E il 12 di aprile, al Festival del Volontariato di Lucca, Renzi è stato invitato e è stata lanciata una sfida di impegnarsi a fare una riforma e rapidamente il 12 maggio ha contro risposto Renzi e ci ha impegnato un po' tutti a dare delle risposte. Come diceva bene il Presidente Piacentini, le risposte sono state immediate. Perché il terzo settore... Almeno nell'inizio nelle parole, dopo vediamo nei fatti. Sì, ma bisogna dire che mi risulta che verso la fine della raccolta c'erano più di 700 questionari raccolti, quindi cifre importantissime. Adesso ci si domanda come diventano carne sostanziale, come vengono cotti questi tanti ingredienti, bisogna metterli assieme. Ci sono molte reti che rappresentano il terzo settore, molte reti che rappresentano il volontariato. La nostra spinta, la nostra vera ricerca è trovare nella differenza una risorsa e trovare un'unitarietà laddove ci sono delle strade da fare assieme. Quindi è una sfida che abbigliamo come prima persona. Terzo settore, a lei anche le commette di spiegare un po' a chiare lettere che cos'è questo terzo, il forum del terzo settore e quali sono le entità coinvolte a livello regionale? Forse il forum del terzo settore è tornato alla ribalta, soprattutto in questi giorni, perché l'assist è dato dato da Renzi. Ma la nostra esperienza nasce soprattutto in un'altra fase storica, nella fase del 96, quando il precedente, l'altro governo Prodi aveva puntato molto sul cambio di marcia, di passo, rispetto a quello che è sociale. Non dico no profit, quello che è sociale. Perché oggi il problema che le persone hanno tutti i giorni è l'affronto del problema di quello che è sociale. il forum è un tavolo di associazioni che rappresentano, rappresentiamo le grandi associazioni italiane, dall'ACLI all'ARCI, all'ICS, alle associazioni come l'AUS, l'ANTEAS, siamo un tavolo di lavoro, di confronto. Non abbiamo questo livello di rappresentanza. In particolare a livello nazionale siamo stati coinvolti in questa prima stesura di proposte. Ah, quindi siete stati coinvolti? Sì, siamo stati coinvolti, nel senso che siamo stati coinvolti nella fase di discussione della prima bozza. La prima bozza che è stata preparata da un gruppo, come diceva chi mi ha preceduto, da un gruppo di persone che oggi siedono in Parlamento, cito solo l'amico Edo Patriarca, ma anche Gigi Bobba, che sono stati portavoce del forum nazionale. Per cui sono stati coinvolti tra le, forse in maniera attenta, persone che dell'argomento avevano le mani in pasta, conoscevano la situazione. E conoscere la situazione cosa vuol dire? Dare anche speranza a chi in questo settore, nel settore del sociale, senza profitto, vivivano e lavorano tutti i giorni. Cito i ragazzi, per esempio, che si costituiscono in associazione per gestire uno spettacolo, per gestire un evento sportivo o un evento ricreativo durante l'estate, o chi organizza una squadra. Le mille associazioni che oggi ci sono, sono situazioni variegate, con situazioni variegate. Allora, secondo me, oggi è bene porre l'accento sui problemi di tutti i giorni. Il problema fiscale, il problema previdenziale, della sicurezza e del riconoscimento dei diritti di queste persone. Perché dietro alle proposte c'è la riscrittura di questo ABC e decalogo. Noi non possiamo pensare che chi lavora in un'associazione di promozione sociale, chi fa volontariato, chi fa cooperazione, è un figlio di serie B. Per cui i contratti non vanno rispettati, vedi, c'è... questo è il tema che sta sotto, che sta sotto la cenere, perché se noi facciamo emergere queste situazioni, il paese cambia. Esatto, ma questo vuol dire che cosa? Che avreste bisogno anche di finanziamenti maggiori o strutturarvi voi in modo diverso? Secondo me non è solo un problema di finanziamenti, è un problema di mentalità di questo paese. Questo paese, per esempio, i rapporti pubblico e privato, gli appalti, la situazione quando io faccio fare al privato sociale un lavoro. Dobbiamo tornare a ragionare non al massimo o al basso, ma all'entità sociale, a capire che questo è un lavoro sociale. Quindi va riconosciuta la socialità del lavoro e chi ci lavora ha la dignità di una persona che vi lavora. Anzi, assolutamente, visto che anche l'utilità tra l'altro è obiettivamente riconosciuta. E questo è il problema che è stato posto. Non dico che in passato qualcosa non sia stato fatto, perché alcuni governi precedenti hanno tentato di risolvere il problema di come dare una figura giuridica, dare assistenza, dare previdenza anche alle persone che lavorano in questo settore. Ma siamo molto indietro. Questo è il punto centrale. Perché nel settore terzo c'è una varietà di persone che vi lavorano e anche di contratti che vanno messi in fila va data dignità. Perché chi lavora anche a carattere volontario deve avere dignità. E questo è un percorso culturale, tra l'altro. Siamo indietro, effettivamente, e chiedo anche a lei, in un contesto europeo, glielo chiedo perché adesso semestre europeo dell'Italia è un'opportunità anche per parlare del terzo settore, assolutamente. deve essere colta come tale, non si parlerà soltanto di questioni di patti di stabilità, eccetera, visto che comunque ci hanno già fatto capire i parametri dentro cui ci si può muovere, però bisogna farlo in un certo modo. Quindi, quali sono gli agganci che secondo voi è importante prendere? Poi sarà Renzi, insomma. Dal 12 maggio in poi si è aperto un cantiere che ci auguriamo sia il suo momento di apertura, mi pare le 700-900 mi pare ultimamente riflessioni che stanno arrivando dalle tante associazioni fanno emergere la grande volontà che insomma tutto questo mondo ha bisogno di trovare corpus, di trovare sistematicità. L'intuizione è stata sicuramente vincente come arrivare a una riforma che stia al passo con le nostre migliori democrazie europee dove il terzo settore questo settore ha un riconoscimento sicuramente meno frammentario di come esiste da noi. Ce n'era assolutamente bisogno c'è bisogno adesso che questo non resti come dire un cantiere infinito ma si traduca in un cantiere che cerchi di dare delle regole più stringenti. Credo che una delle prime questioni è sicuramente non rendere residuale culturalmente questo settore non essere questo settore come dire il lavoro a basso prezzo o meglio l'affidamento di servizi a basso prezzo che possono fare enti locali che possono fare anche aziende insomma lavori a basso prezzo dobbiamo ritornare a trattare questo settore anche è un settore importante dell'economia italiana non è un settore vuol dire di settore di miliardi di euro che mobilizza all'interno dell'economia italiana se fosse retto in modo imprenditoriale perché poi quello è unitario e assolutamente questo aiuterà anche le imprese sociali ad avere una maggiore caratterizzazione dal punto di vista imprenditoriale e citava veniva citato prima i contratti e gli appalti a basso prezzo oggi dobbiamo darci una normativa più europea su questo su questo versante non possiamo più pensare come dire che il terzo settore la cooperazione in genere lavora con minori diritti dei lavoratori minori tutele prezzi che vanno a un ribasso davvero a volte sconcertante su questo vuol dire che si sia messo in cantiere questa riforma ci dà l'opportunità in qualche modo di rendere rilevante un settore l'ultima questione che vorrei affrontare è che dentro questa grande riforma c'è il tema anche delle giovani generazioni e quindi un tema educativo importantissimo dopo la cosiddetta abolizione della leva militare o la leva non più obbligatoria io credo che c'è stato un deficit educativo delle nostre giovani generazioni questa riforma tende a riportare al centro anche questo elemento importante perché quello che non si è speso o non si spende magari in questi in questi giorni per i servizi civili eccetera poi magari lo spendiamo come società in quanti altri disagi e in quante altri tentativi di ridurre i disagi sociali voglio tornare anche sul discorso dei giovani leva civile perché per carità e quindi la leva è un altro asse portante di questa riforma che cosa vede come aspetti anche negativi che potrebbero essercene mi sta dettando un po' beh va detto che in questa riforma non si parla del lavoro non si parla dei lavoratori ecco e è citata la parola mercato che diciamo da questa parte pone delle preoccupazioni anche perché noi come categoria seguiamo il terzo settore quindi tutta la marea di contratti che poc'anzi insomma sono stati rappresentati anzi mi fa piacere sentire dagli altri interlocutori questa attenzione nei confronti dei lavoratori che sono dediti insomma in questo settore perché effettivamente noi abbiamo circa 10 contratti in tutto il settore del privato sociale cioè è proprio un mare dove nuotano diversi pesci e dove c'è anche questo da dire che finora anche le differenze fra i vari contratti hanno determinato poi anche delle difficoltà applicative ma anche per la parte datoriale in quanto tale del terzo settore e la cosa che va rilevata e che non è ancora risolta è appunto questa attenzione nei confronti del mondo del lavoro io sospiro perché perché ne abbiamo situazioni nelle quali non vengono applicati i contratti nazionali ecco io guardi questa cosa la vorrei un attimo approfondire perché è centrale non vengono applicati e la responsabilità di questa cosa è anche degli enti appaltanti perché non ci sono controlli o nelle gare di appalto quando si fanno le delibere non viene specificato se a monte non c'è diciamo una lettura da parte del sindacato che va a controllare a verificare sfugge molte volte l'obbligo citato di applicare i contratti nazionali di riferimento per cui noi ci ritroviamo a volte con i lavoratori che vengono da noi si rivolgono a noi e scopriamo che cosa che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro firmati da Cigelle Cisle Will ma applicano o contratti di comodo e quando applicano però i contratti nazionali che sono firmati da noi non li applicano fino in fondo quindi c'è una questione di eticità da entrambe le parti le do adesso la parola dovevo andare in pubblicità in combe la pubblicità però siccome è toccato un aspetto cruciale io ho lanciato il programma questa mattina e sono arrivate delle mail rapidissime da alcuni interi spettatori in cui ci hanno sottolineato questo dicendo parlate delle cooperative parlate del problema di chi lavora dei lavoratori del settore di che contratti ci sono tutti quanti sono andati a guardare su questo aspetto qua e come se fosse un po' questo il nodo cruciale per moltissimi perché i pareri delle persone è che è utile serve il terzo storico volontariato utilissimo c'è tantissima predisposizione quello che è un problema che è emerso almeno per i cittadini è proprio questo la contratualistica gli operatori del settore è un aspetto cruciale quindi tanti si sentono trascurati oppure se non si parla delle persone in che condizioni magari lavorano o operano in un sistema che è ben difficile da gestire più che mai per quel che riguarda diciamo la sanità il socio sanitario è la cura della persona quando c'è un servizio cioè io cittadino quando ricevo un servizio mi devo porre la domanda il lavoratore che fa questo servizio e che quindi io pretendo anche un servizio di qualità è un lavoratore a cui viene applicato correttamente il contratto lo spieghiamo lo spieghiamo esatto lo spieghiamo andiamo pochi secondi in pubblicità e prendiamo un po' quest'altra parte con questo argomento tra poco e prendiamo un po' e prendiamo un po' Grazie a tutti.